bella a tutti ragazzi qui è the official video games e benvenuti su brustars l'unico gioco che è amato veramente da tantissima gente quindi oggi ci diamo da fare ragazzi andiamo a prenderci tutta questa roba dai e così dai e così forza non ci morite malissimo giovani e raccomando state attenti a non morirci attenzione panico attenzione panico e uscia e domani e dopo domani e dopo domani schiattateci tutti quanti in corpo e dai e mobili a ricaricarmi però maledizio e non mi va più perché non mi va più ogni tanto si impalla ogni tanto mi si impalla annaia voi schiattateci malissimo lo so ragazzi che purtroppo mi ci valga ma è la connessione purtroppo ragazzi non ci posso fa niente niente abumete e babumete sto e daje e movite e daje e movite e daje annaia te mannaia e forza maronne maronne che sta succedendo qua e daje mannaggia voi mannaggia daje daje così daje così che gli fanno vedere chi siamo daje così si la squadra di top 91 ha vinto in tal caso in tal caso noi abbiamo vinto si vabbè questo l'avevo già capito tocca qui per iniziare una missione va bene va bene allora ragazzi per chi vuol giocare con me a bros stars come potete ben notare in alto a sinistra ci sta scritto top 91 quindi per chi vuol mandarmi la richiesta di amicizia e vuol fare una partita con me qui a bros stars sono ancora all'inizio quindi facciamo subito con gioca ricerca dei giocatori 6 di 6 ottimismo della vita ragazzi eh ottimismo da vita però daje non te non te ingrippati zia però eh si 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 va bene va bene va bene oddio oh maronne oh maronne no ci muoio no ci muoio no qua ci muoio ci muorirò tantissimo e daje così e daje cola daje daje a ridaglia la buon uomo e che cos'è mannaggia te daje ma dove cacchio mi stai a mirare però oh devi mirare lui non mannaggia maronne maronne santissima raga maronne santissima raga che cos'è tutta sta violenza sta violenza che è tutta sta violenza qua eh 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 dove vai dove vai dove vai tu dove vai dove vuoi ad andare aia no bombardino 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 lì figliacci tua ma ha fatto secco ragazzi ma ha fatto secco e daje però forza daje così daje cola e daje su e forza su fermo srigiatolone oddio ragazzi qua ci sono morti tutti sono rimasto soltanto io no 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 a bomba e daje e forza a bombardì e daje e non fa così e non fa così e pareva e non male che ho detto non fa così e non male che ho detto non fa così perché se no eh ci morimo oh dove vai eh tizio tizio buon uomo daje così partita conclusa chi è che ha vinto no hanno vinto gli altri sconfitta procedi vediamo un po vediamo un po gettoni ricevuti eh evento pioggia di monete dieci vabbè ragazzi non ci abbiamo fatto un ragazzi lo so vai rigiochiamocelo un'altra volta facciamo soltanto questa magari anche un'altra vediamo un po dove che riusciamo ad arrivare con questo video se così lo vogliamo definire video voi ovviamente 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 aspetta anche voi decidere che cosa fare se lascerete like o quant'altro a signori a tizia e daje e morice e morice e moricite niente raga eh che si buttano proprio come dei maiali come dei porci non so manco rinato che già subito mi volete far fuori lo state uscite fuori che vi faccia fettine daje daje così daje così daje colà ah hai capito hai capito a sta stronza e daje maronne maronne che sta succedendo qua sta succedendo qua pigliate a questo pigliate a questo pigliatelo pigliatelo ma che cazzo cioè quando piglia e e e e mi si impalla tutto cioè ragazzi non è vero dai si impalla tutto daje beccate quell'uomo beccatelo daje daje così beccate quell'uomo beccate quell'uomo dai a voi Oddio o maronne ma chi cacchio è questa qua mo oh 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 daje con la super mossa la e leccala la eccala la e arvao 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 lui arvao lui manna aje aje daje aje e hai capito raga questi qua si vanno a nascondere in pratica dove non so io daje così maronne ragazzi c'ho poca vita maronne ragazzi c'ho poca vita e no niente raga no niente 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 ragazzi questa qua l'abbiamo persa l'abbiamo anche persa questa qua si ragazzi l'abbiamo persa e vabbè niente ragazzi niente purtroppo abbiamo perso anche questa partita e a raffagemme quindi ragazzi soltanto questa qui riesco a fare come missione non so se poi dopo andando avanti andando avanti ci stanno anche altre missioni e quant'altro questo ragazzi non lo so perché perché in tal caso un bel po di annetti fa ho iniziato a giocare a bros stars con altri altre persone quindi che mi hanno cercato su youtube per fare video e quant'altro però comunque sia ragazzi per adesso per adesso ho sentito anche sniper dark ex mi ha detto che in pratica ha anche lui il bros stars sul e cala arvao sul telefono quindi diciamo che possiamo fare qualche partita insieme possiamo anche fare qualche video insieme dove vai tizio vieni qua papà taglie taglie forza fammolo fuori a questo e dai e mannaia 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 dove vai dove va e ragazzi soltanto a me mi stanno a far fuori e stanno a far fuori soltanto a me e ma io non ho capito è no 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 questo qua ragazzi è più pesante questo qua è molto più pesante taglie 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 così dai e così dai arraffa gemme dai arraffa gemme arraffatevi le gemme di sti tizi per favore dai e dai e dai e da che qua ci muoio qua ci muoio raga qua c'è morimo taglie dai e così dai e così dai e così taglie taglie raga dai e raga facciamo vedere chi sia niente o sta parte se partite o proprio che non vogliono andata c'è per amore ormai partita conclusa che abbiamo fatto non abbiamo fatto niente migliore e johnson e vabbè tanto ormai vabbè comunque sia ragazzi non abbiamo fatto assolutamente niente dunque detto questo ragazzi io mi fermo qui con questo primo appuntamento della serie di brousters voi mi raccomando come sempre spolliciate commentate iscrivetevi e attivate la campanellina quando vedete questo video per aiutare serie canale a crescere da the official video games è tutto ciao 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 ragazzi